I rovesci di Daesh stanno diventando rovinosi. Le truppe irachene hanno liberato Ramadi, capitale della cruciale provincia di Al-Ambar, confinante con Siria, Giordania e Arabia Saudita. L'esercito di Baghdad punta ora alla riconquista di Mosul, roccaforte del califato. Daesh in poco più di una settimana ha perso il 40% del territorio iracheno che aveva conquistato nell'ultimo anno, ma il Pentagono avverte, è prematuro dichiarare vittoria. In Siria, determinante l'appoggio dell'aviazione russa, l'opposizione, nota come forze democratiche in Siria, che si candida al tavolo negoziale, starebbe lanciando un'offensiva suracca, dove sono state liberate 20 aree residenziali, mentre l'esercito siriano ha distrutto un convoglio di camion cisterna a nord di Palmira dopo aver liberato due località nella provincia di Aleppo e occupato una collina di importanza strategica. L'aviazione russa in Siria ha distrutto in tre giorni 556 obiettivi terroristici in 164 attacchi. L'azione della cosiddetta coalizione occidentale è invisibile. Tempi di austerity anche nel Regno Saudita Il disavanzo di bilancio ha toccato in 98 miliardi di dollari, pari al 15% del PIL. Per sostenere il crollo dei prezzi del greggio provocato e voluto dallo stesso governo di Riyadh e le spese militari nella guerra contro lo Yemen, l'Arabia Saudita aumenta il prezzo della benzina e rincara le tariffe elettriche dell'acqua per i cittadini più ricchi. Previsti nel 2016 l'introduzione dell'IVA, l'aumento delle tasse sul consumo di bevande e tabacco e un piano di privatizzazioni. Nel fine settimana sono ripresi pesanti bombardamenti di artiglieria da parte delle formazioni militari del governo di Kiev contro il Donbass. Colpita in più punti la capitale Danetsk e numerosi villaggi lungo la linea di demarcazione. Ci sono morti e feriti sia tra i militari della Repubblica Popolare che tra i civili. L'allarme per una ripresa dei combattimenti è molto alto anche a Lugansk. Nel frattempo Kiev ha approvato un bilancio per il 2016 di circa 20 miliardi di dollari, di cui il 20% è assegnato al settore militare. Un bilancio peraltro insostenibile senza il prestito del Fondo Monetario Internazionale. In pratica è la comunità occidentale che tiene in piedi l'Ucraina, il cui debito è ormai insostenibile. Sono in molti, anche nella stessa Ucraina, a ritenere che la tenuta dell'attuale governo è ormai molto precaria. Sale la tensione tra Brasile e Israele dopo la decisione della Presidente Dilma Rousseff di non procedere alla ratifica della nomina del nuovo ambasciatore israeliano. L'uomo di Benjamin Netanyahu, Dani Dayan, è stato considerato inaccettabile dal governo di Brasilia e da 40 organizzazioni brasiliane per i diritti umani, in quanto tra i più estremi rappresentanti delle politiche di occupazione illegale delle terre palestinesi. Dayan è stato ed è la guida dello Yesha Council, l'organo che rappresenta le colonie israeliane nei territori della West Bank. Il nome di Dayan è contestato anche in Israele, dove perfino due ex ambasciatori in Sudafrica e Francia non hanno lesinato critiche. Netanyahu insiste nel braccio di ferro e minaccia la presaglie. Per lui, Dani Dayan è l'uomo giusto in questo momento, perché sostiene il nostro diritto di stabilirci in Giudea e Samaria. Ovviamente contro tutte le risoluzioni dell'ONU. Najeej Erf, giornalista siriano, redattore capo del mensile Henta, noto per i suoi documentari che descrivono la violenza e gli abusi di Daesh, è stato ucciso dai gnoti in pieno giorno a Gaziantep, in Turchia. Questo è il terzo sassinio di un giornalista nel paese durante gli ultimi tre mesi. La notizia dell'assassinio, scrive Pino Cabras sulle pagine della rivista online Megachip, è già da oltre 30 ore sui tavoli delle redazioni, ma non si è guadagnata la prima pagina di nessun grande giornale mainstream. Il mainstream preferisce sopire e troncare quando sul banco degli accusati sono gli amici della Nato. Insomma, dire la verità significa spiegare perché, prima, si sono nascosti i fatti. Grazie a tutti.